Buongiorno, buon pomeriggio dalla Eli e bentornati o benvenuti sul canale. Oggi volevo fare il profumo, la seconda parte del video dei profumi finiti, perché se è vero che ho tanti profumi nei miei armadi, è anche vero che finisco tanti profumi. In questo periodo ne ho finiti 10, 5 ve li ho mostrati nel video scorso e altri, 1, 2, 3, 4, 5, Vi mostrerò adesso, per chi si affaccia al canale, in questo momento io non sono un'esperta di profumi, assolutamente, mi piacciono, sono un'appassionata, ma sono appassionata di tante cose, di libri, di cucina, di manualità, creatività, quindi uncinetto, maglia, cucito e quant'altro, sono appassionata di beauty e sono appassionata di profumi da molto tempo, ma non sono un'esperta, quindi mi definirei, come mi hanno definito le amiche Martinos, le sorelle Martinos, una narratrice di profumi, ma da trattoria, perché ve li racconto a modo mio, vi racconto più che altro le sensazioni che mi regalano, le emozioni, i ricordi a cui sono legata, tra qualche video vedrete i profumi della mia adolescenza e giovinezza, che sono legati a degli anni particolari della mia gioventù, e quindi sto preparando questo video che mi piace molto, perché mi ha fatto ricordare tante belle cose, alcune magari anche malinconiche e un po' dolorose, ma insomma la vita è fatta di bei momenti, e di momenti che si ricordano piacevolmente, anche se magari ci hanno lasciato così qualche strascico di dolore, ma io poi quando comincio a parlare, stavo dicendo per chi viene qua per la prima volta, io vi racconterò quello che sento nei profumi, quindi non aspettatevi una descrizione tecnica, perché non ne sono capace, e sono sempre anche un po' agitata quando devo fare il video dei profumi, perché so che non ne sono all'altezza, ma mi piacciono così tanto e mi piacciono da sempre, che mi piace condividere quello che un profumo mi regala. Allora, vi dicevo, io ho tanti profumi nella mia collezione, che non mi piace neanche dire che li colleziono, perché io li uso e li uso tutti, però vabbè è una collezione, perché sono tanti, ne ho tanti, ne acquisto tanti, ma ne uso tanti, perché io nel profumo ci faccio il bagno, a me il profumo piace che si senta, certo non deve dare fastidio a chi mi è vicino, però insomma se mi spruzzo il profumo si deve sentire. I profumi per me sono una parte importante della mia giornata, perché la inizio con il profumo che mi caratterizza in ufficio, poi magari torno a casa e mentre sistemo la casa o devo uscire a fare la spesa, può essere che ne metta anche un altro, e alla sera, prima di andare a letto, dopo la doccia, o comunque dopo essermi preparata per la notte, non posso andare a letto senza un profumo, magari poi soprattutto se li sto provando, vedo quanto durano, se alla mattina lo sento ancora, come Marilyn Monroe, sono io, la Marilyn Monroe di Lecco, va bene, lasciamo bene, sono un po' agitata oggi, perché devo portare la mia mamma a fare la visita cardiologica, la prima dopo l'ictus che ha preso, e quindi vabbè ho detto ciao, ammazziamo il tempo facendo un bel video, e partiamo con questi profumi. Allora, primo profumo che ho finito e che vi voglio raccontare è questo, di Tesori d'Oriente, profumo aromatico al tè verde e maccia. Allora, devo dire, e l'ho già detto forse in qualche altro video, che i Tesori d'Oriente sono una tipologia di profumo che io ho sempre snobbato, perché li ho sempre erroneamente paragonati a dei deodoranti, e non lo sono in nessun, in nessun modo, sono proprio dei profumi, ma non so come mai, anche quando passavo nei vari scaffali del Tigotà, di Acquasapone, non li ho mai considerati. Quando poi ho pensato di parlare anche sul canale di profumi, e sono andata a ricercare amici youtuber che parlassero di profumi, mi sono accorta che questi erano dei profumi veri e propri. E questo è uno dei miei primi acquisti di Tesori d'Oriente, e devo dire che è un profumo davvero, davvero delizioso. che è più negocio, proprio l'ho spremuto, ah che forse viene fuori qualcosa, va. Allora, vi dirò che tutti questi profumi che ho finito, li ho finiti ottobre-novembre, ma li avevo iniziati primavera-estate. Quindi sono comunque tutti profumi molto freschi, molto leggeri, molto ariosi, che diciamo sono perfetti per la stagione che si sta avvicinando. In queste giornate ci sono a Lecco, almeno, delle temperature meravigliose, soprattutto nel pomeriggio, alla mattina e alla sera fa ancora freschino, ma siamo insomma alla fine di febbraio. E quindi questi profumi li ho proprio terminati qualche mese fa, e poi piuttosto che gettarli solo quelli che non tengo in collezione, perché la maggior parte delle boccette, voi lo sapete, io quelle sì le colleziono, le ho sparse da tutte le parti, sul comò dell'Ottocento, sul mio tavolino dell'Ottocento, ogni tanto li spolvero quando mi ricordo, o quando proprio passo i peli, dico mamma mia quanta polvere che c'è sui, allora li passo perché sono dei gioiellini carini. Però appunto li ho terminati da un po'. In questo momento sono molto per i vanigliati, zuccherati, belli avvolgenti, anche se le temperature adesso stanno un po' cambiando, ma secondo me tornerà il freddo, o quantomeno il brutto tempo, già da domani dovrebbe cominciare a piovere, quindi li porterò con estremo piacere. In questa settimana per esempio tutti i profumi alla vaniglia, con uno che ho scoperto l'altro giorno e mamma quanto è buono, ma ve ne parlerò più avanti, qua sapete che io parto e non si sa dove arrivo. Ebbene, questo profumo di Tesori d'Oriente mi è piaciuto tantissimo, è un profumo molto molto fresco, al tè verde, maccia, non lo paragonerei al famosissimo e da me amatissimo profumo di Elisabeth Arden, che è una delle mie designer di profumi, non so, di brand di profumi, non so come si possa dire. Comunque è un artista che io amo moltissimo, penso di avere tra tutti i profumi, almeno una decina di profumi di Elisabeth Arden, anche se non ve ne ho mai parlato, ma magari se vi fa piacere possiamo farne un video. Li amo da molto, li amo da davvero tantissimo tempo, li ho sempre portati, sono secondo me dei profumi che possono andare bene a una ragazzina di 13 anni come alla signora di 80 anni. Profumi meravigliosi, sempre, come dire, perfetti per ogni situazione. Veramente per me Elisabeth Arden è il top e soprattutto perché ha un costo che è assolutamente accessibile alle tasche di tutti. Ma torniamo al nostro Tesore d'Oriente, un profumo che è stato lanciato nel 2019, le note di testa sono bergamotto, cardamomo, pepe, arancia amara e mandarino. Cuore abbiamo tè verde, tè maccia, nero, lì, gelsomino, mughetto e rosa. Le note di base sono muschio, legno di cedro, ambra e sandalo. Allora, come vi dicevo, non lo paragonerei al famoso profumo di Elisabeth Arden, il capostipide di tutte poi le declinazioni che sono state fatte di questo profumo e che a mio parere è il mio preferito, cioè per me quello è proprio Elisabeth Arden, cioè la caratterizza con quel profumo lì perché l'ho portato tantissimo. Il tè lì lo trovo molto fresco, molto frizzante, spumeggiante. Questo è un profumo al tè maccia con un'apertura molto agrumata. Poi, devo dire che la durata di questi profumi è eccelsa. Nel corso della giornata si trasforma in un profumo muschiato, un po' più caldo. All'inizio è veramente molto fresco, molto agrumato il bergamotto, l'arancia amara, quasi un profumo amaroniolo. Poi pian piano si addolcisce, si addolcisce, ci si sente il mughetto, lo sento abbastanza bene, il gelsomino molto molto bilanciato, non forte, non potente, non fastidioso e poi c'è il muschio che regala questa freschezza ma anche un po' questa rotondità a questo profumo. Io l'ho amato tantissimo quest'estate e infatti l'ho finito. Un profumo che è per me adattissimo ai momenti di sport, che si può mettere dopo la palestra, che si può mettere se si va a fare una passeggiata in montagna oppure al lago. Un profumo adatto all'ufficio, un profumo adatto a tutte le occasioni. Non è invadente, è molto piacevole, è fresco, è frizzante, agrumato, quindi ve lo consiglio, se voi non lo conoscete poi la caratteristica di questi profumi è davvero che il costo è proprio low cost, cioè un prezzo molto basso per, secondo me, delle prestazioni di medio, facciamo come a scuola, più che sufficiente, buono, buono, ottimo livello. Ecco, facciamo così, buono, ottimo livello. Ve lo consiglio, in questo momento lo ricomprerei sì perché mi piace molto, no, perché ne ho tanti nuovi da provare. Secondo profumino, questa non la terrò in collezione, però forse sì, magari si farò uno scaffale tutto di profumi d'Oriente, perché no? Profumi d'Oriente, tesori d'Oriente, ecco. Sì, potrei farlo, sì sì sì. Poi, secondo profumino che ho finito e che mi è piaciuto tantissimo è Frangipani di Lerbolario. Ne avevo un altro perché avevo acquistato due kit di quando erano usciti, mi pare, il Natale scorso, perché c'era Melograno e Frangipani, può essere, non ho la memoria, un po' così, ecco. E vanecente, in questo momento non è che mi ricordi benissimo. Una fragranza del gruppo Floreale da Donna di Lerbolario ed è uscita sul mercato proprio a novembre, ottobre-novembre del 2022. Le note di testa sono mandarino-bergamotto, le note di cuore frangipane, le note di base ambra, legno e cedro. Ecco, io quello che sento maggiormente è Frangipani. Io lo, qui proprio, qui proprio me lo son bevuto. Non si sente niente però. Si sente un tanto da qui. Allora, i frangipani per me rimane dall'inizio alla fine. Non trovo comunque quelle note di ambra, legno e cedro per me sulla mia pelle. O comunque, se ci sono, sono talmente sottili che non le ho avvertite. Quello che mi è piaciuto tantissimo è questa nota così dolce del frangipane. Mi è piaciuto tantissimo. Il mandarino e il bergamotto all'inizio danno una sferzata di energia, una sferzata di freschezza, ma poi c'è questa morbidezza floreale del frangipane. Un profumino, profumino qui, perché ne avevo due, che potrei sicuramente ricomprare in full size in vista dell'estate. Questo ci sto pensando. Ci sto pensando perché mi è piaciuto proprio tanto. Aveva una discreta durata e si sentiva tantissimo. C'era scia comunque e la diffusione nel mio ufficio si sentiva molto. Vi ripeto, io come sapete ci faccio il bagno nei profumi, ma sto anche attenta che i profumi non siano da mal di testa. Ne ho uno che poi vi farò vedere perché sto preparando un altro video di due profumi da complimenti, uno da 4,99€ e l'altro che mi pare costi più di 100€, ma che non ho comprato io, ma fortunatamente mi è stato regalato. Va bene. Devo anche dire una cosa. Quando l'ho comprato proprio in erboristeria di Lervolario, sono sempre gentilissime le commesse e mi hanno regalato una svalangata di crema corpo, crema mani, insomma. C'era tutta la linea e loro me le hanno fatto, lo shower gel, insomma me le hanno fatte provare. E devo dire che se applicato con la crema corpo, l'intensità e comunque la durata è molto molto superiore. Quindi se vi piace un profumo comunque intenso di frangipani, se è una nota che voi amate, questo floreale dolce che ricorda l'estate, il fiore del frangipani è buonissimo, è bellissimo, non lo so, è bellissimo. E lì non tagliamo niente che qua aspettiamo l'ora di andare dal cardiologo. E' un profumo molto molto piacevole e sicuramente potrei comprarlo in full size per farci il bagno. Terzo profumo finito. I miei amatissimi, perché ne ho ben due, i miei amatissimi Yap Farm. Ho fatto un video dedicato a questi profumi, ve lo lascio da qualche parte dove ci sono le schede che ogni tanto appaiono. e questo era, diciamo, il profumo che assomigliava a Acqua di Gioia di Armani. Un profumo che io ho portato, che ho sempre amato, e che questo numero 29 di Yap Farma, o Yap Farma, chiamatelo come volete voi, ricorda moltissimo. Non vi racconterò ancora tutto di questi profumi, perché, appunto, vi ho raccontato già tanto nel video. E' un profumo molto fresco, regala un momento di piacevole estasi. Un gelsomino acquatico e con un cedro che dà freschezza a questo gelsomino, quindi non un gelsomino opprimente, non vi ho detto le note. Le note di testa sono limone di amalfi, menta, le note di cuore, gelsomino acquatico, le note di base, cedro della Virginia, labdano francese e zucchero di canna. Ecco, io lo trovo davvero un profumo molto somigliante ad Acqua di Gioia di Armani. È un profumo molto fresco, è un profumo non troppo zuccherato, è un profumo sbarazzino, allegro, molto primaverile, adatto per l'estate, non opprimente, e poi comunque ha una discreta durata. Anche qui, vi ripeto, non so... Ah, ce n'è ancora un ciccinini. Oh santa, vediamo se riesce a venire fuori. Facciamo qua che l'acqua ho spruzzato. Oh sì! Ecco qua. Mamma mia! Che buono! La menta, il limone, poi, allora, l'apertura è davvero molto 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 fresca. Poi, pian piano esce questo gelsomino che la fa da padrone, però è bilanciato dal cedro. Secondo me, davvero un dupe, se è un dupe, molto molto ben riuscito. Da provare, costano una sciocchezza in farmacia, la mia farmacia del Viale Turati di Lecco li ha, ma li trovate anche online e costano ancora meno. Ma, secondo me, su questi profumini bisogna farci un pensierino per togliersi lo sfizio, perché con meno di 5 euro vi portate a casa un signor profumo. davvero molto molto buoni. Poi, abbiamo invece il numero 21. Il numero 21 che è ispirato a DKNY. DK New York, non so come si diceva. Ragazzi, prendetemi così come sono. Dai, sono la I. è ispirato a DKNY. Original Woman Energizing. Anche questo, un profumo molto fresco. Le note di testa sono agrumi, vodka e foglia di violetta. Nel cuore abbiamo il loto, il narciso e l'orchidea, quindi il narciso bello potente, ma non fastidioso. Base, abbiamo betulla e note boschive. Ecco, questo è un profumo, vediamo, ecco, c'è ancora qualcosa. Sì! Mamma, questo è favoloso. Menta, pam, agrumi e la vodka. Voi l'avete mai provata la vodka? Io l'ho provata perché sono una sbevazzona, non è vero, però mi piace bere e mi piace provare gli alcolici, degna figlia di mio padre. Vodka, menta, la violetta no, perché secondo me la violetta ha proprio quel profumo cipriato, polveroso e questo secondo me è proprio un profumo freschissimo, frizzante, acquatico, davvero, davvero buonissimo. È energico, spumeggiante e le note fiorite non prevalgono sulla freschezza di questo profumo. È perfetto per l'estate, assolutamente perfetto per l'estate. Io non ho una stagionalità per i profumi, però chiaramente magari in estate prediligo il profumo più fresco, più fiorito e in inverno, autunno i profumi più coccolosi. Non sono mai stata un'amante dei gourmand, sono dietro a diventare vecchia e mi piacciono pure gourmand e quindi vaniglia, gogo, zucchero filato, cacao, fava tonka. in questo momento sono ispirata da queste cose ma poi ve li farò vedere qua. Dovrei fare i video ogni mezz'ora per farvi vedere tutti i profumi che ho. Lo dico a bassa voce. Comunque, ritorniamo a lui. Buonissimo, 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 fresco, frizzante, agrumato, mentolato, perfetto, 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 numero 21 che si ispira al DKNY. Ok? Poi ve li lascio ovviamente sotto nell'info box. Ultimo profumo, ma non per importanza come si dice, ma questo è il profumo del mio cuore, ma questo è il profumo del mio cuore, io quanto l'ho amato, quanti boccettini mi ho fatti fuori d'estate. questo è il profumo del mio cuore, è uno dei miei preferiti da sempre, da quando è uscito. Ed è uscito nel 2018. E dal 2018 ad ora che sono passati sei anni, io ne ho già fatti fuori tre flaconi da 100 ml. Perché? Perché è Calvill Klein? Perché io adoro questo brand, ho davvero tantissimi profumi di Calvin Klein, Klein, mamma mia Elena, che rozza, e è uno dei profumi commerciali, è uno dei brand commerciali che mi piace di più. È nelle mie corde, Eternity, l'ho finito la volta scorsa, ve l'ho fatto vedere, Eternity classico da donna, questo è Eternity Ayer, e adesso ve lo dico, ve lo racconto. Allora, vi dicevo, è un profumo che è uscito sul mercato nel 2018, note di testa sono note ozoniche, pompelmo e ribes nero. Nel cuore abbiamo peonia, pera e mughetto, in base muschio, leno di cedro e ambra grigia. Bah, insomma, c'è anche qualche somiglianza con alcune note che abbiamo visto nei profumi precedentemente raccontati. Allora, cosa vi devo dire? Lo amo, l'ho amato e lo amerò, probabilmente per sempre e per tutta la vita. È un fruttato fresco, meraviglioso, note ozoniche e pompelmo secondo me sono quelle che rimangono per tutta la durata di questo profumo e questo profumo ha una durata ottima. è un profumo che si sente, è un profumo oh, riesce ancora un pochino ma quanto è buono leggermente 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 c'è una certa un certo percorso in comune è buonissimo allora è un profumo brioso è un profumo allegro frizzante pulito il profumo dell'estate per eccellenza della primavera ve lo racconto con un'immagine sapete che a me quando i profumi colpiscono tanto mi regalano un'immagine fotografica ed è lì mattina presto stiamo partendo da un rifugio bellissima giornata terza il cielo azzurro il sole non si è ancora alzato si comincia a camminare si comincia a camminare si arriva con il sentiero ad un ruscello da parte questo sentiero c'è una vallata spazi aperti montagne molto alte che raggiungono i 3000 metri noi non arriveremo a 3000 metri però a 2000 si quindi l'aria è fresca terza pulita i colori sono brillanti i prati che ci sono intorno a noi sono verdissimi il cielo è azzurro senza nuvole bello quell'azzurro quasi come il flacone di questo profumo l'acqua del ruscello è cristallina fresca scende veloce se ci si avvicina crea quella nebbiolina che rinfresca soltanto a guardarla stiamo salendo in quota e l'aria pian piano si fa rarefatta si sente e si respira aria pulita questo per me è questo profumo eternity di air potrei ricomprarlo ma l'ho già fatto l'ho già fatto non posso stare senza questo profumo questa volta sono stata brava perché ho tanti profumi che voglio provare per la primavera estate e mi sono accontentata di un 50 ml ma se dovessi scoprire che lo tolgono dal commercio ne compro sicuramente 3 da 100 ml perché io non posso rimanere senza perché questo è un profumo che mi fa star bene è un profumo che mi dà energia è un profumo che mi dice dai Eli anche se oggi non hai voglia ad andare al lavoro soprattutto d'estate quando non ti accendono il condizionatore tu vai lo stesso perché hai questo profumo e puoi tutto questo per me è eternity e dopo aver quasi detto delle cose senza senso ma che sono le cose che i profumi belli che mi piacciono mi fanno dire io vi ringrazio per avermi ascoltato in questo mio così vaneggiamento ho anche il capello fuori posto nel mio vaneggiamento vi saluto spero di avervi dato qualche ideuzza per i profumi per la prossima primavera o per l'estate perché no ecco sono tutti profumi davvero low cost perché questo sotto i 4 euro questi sotto i 5 euro se li trovate online forse anche meno questo l'ho appena comprato e l'ho pagato 50 ml 28 euro ma sarei disposta a spendere anche 50 euro 60 euro per un 100 ml questo è un profumo che io ricomprerò sempre e questo forse in full size ecco sui 20-30 euro però insomma ecco sono dei profumi parzialmente low cost diciamo così ce ne sono alcuni tanto low cost ce ne sono alcuni che sono parzialmente low cost bene la smetto qua perché spero di essere stata leggermente più corta del solito ma fa niente se non lo sono stata io vi abbraccio vi saluto vi auguro una buona continuazione di settimana perché oggi siamo a mercoledì e conto di montarlo questa sera quando torno dal cardiologo perché abbiamo la visita alle 19.30 e quindi prima delle 8.30 non saremo a casa e vi aspetto in un prossimo video probabilmente nel fine settimana se tutto prosegue come deve andare avanti un bacio ancora grazie e a presto ciao